L'ultima morte sul lavoro, quella di qualche giorno fa, ha portato di nuovo a gallo un tema che il sindacato affronta da tempo, però avete deciso in qualche maniera, in maniera unitaria adesso, di segnare una differenza col passato. Riteniamo che siano maturi i tempi per segnare una discontinuità rispetto al passato, sul diritto alla sicurezza sul lavoro e nel lavoro che riguarda tutti gli occupati nel nostro territorio. È un tema del quale deve interrogarsi l'intera comunità civile della nostra collettività e su questo riteniamo sia fondamentale aprire una interlocuzione con chi ha responsabilità di primo piano nel rispetto delle norme sulla sicurezza. Apriremo una grossa vertenzialità che ha a che fare con le procedure di sicurezza nei cantieri. Un intervento trasversale da parte di tutti in queste ore, lo capiamo pure perché il cordoglio conta in queste situazioni, però io credo che si stia scadendo troppo nella retorica. Andiamo verso le idee e i programmi, noi oggi ci siamo riuniti perché vogliamo proporre qualcosa di concreto. Noi come primo punto, che poi è il punto fondamentale, è quello che comunque bisogna cambiare passo e provare a intervenire su quello che è il futuro di questo territorio. Ma la cosa principale su cui siamo intervenuti è, dobbiamo vedere un po' su questa questione degli appalti, che sta procurando tutta questa difficoltà e queste situazioni di pericolosità che vanno ad aumentare, come quella sugli infortuni e in questo caso anche mortali. Per cui stiamo tentando di mettere in campo un programma che prevede la possibilità di richiamare tutti quanti, sia le istituzioni, la stessa prefettura, le associazioni datoriali, insomma tutto il sistema del territorio, la politica stessa per fare un'unione, per fare comunità di intenti e tentare, come dire, di intervenire per cercare di salvaguardare quello che è il futuro di questo territorio. Proviamo unitariamente, insieme a Cisle Will, a dare una piattaforma, questo è quello l'obiettivo che insomma ci stiamo un po' dando, quello di fare una piattaforma comune per temi che riguardano l'occupazione, il lavoro, ai lavoratori e al settore tutto, e quindi salvaguardare i trasporti, i servizi e ciò che è l'occupazione tutta del nostro territorio.